Siamo andati, siamo andati a bere una volta da Pidu, dopo siamo andati per un giro con la nostra, con la mia appa, siamo andati a schiantarci contro un pulmo di sorrio, non lo dè? A sesi, sono andati per un bel passo? Anche a chi è andati! Ciao, ben hai scuro, Degg no 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 si vado no 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 si vado Sono ricordati! No-no-no, sono cerchini, vacan Ed è questa data turistica! Che ha rito? orega essero Grazie a tutti.